E' scaduto il termine per la comunicazione da parte delle ASL alle scuole degli studenti in adempienti in merito ai vaccini obbligatori. Risultano in adempienti al 10 marzo 152 bambini nella fascia di età 0-6 anni su un totale di residenti nella stessa fascia di età di 18.000 bambini circa. Con una percentuale di inadempienza inferiore all'1%. Oggi 20 marzo un'altra scadenza per quanto riguarda i vaccini, l'obbligo vaccinale di che scadenza si tratta? E' la scadenza che hanno i dirigenti degli istituti scolastici per chiedere ai genitori dei bambini che risultano inadempienti sulla base della legge nazionale sull'obbligo vaccinale di produrre un certificato vaccinale oppure un certificato di esonero definitivo o temporaneo alla vaccinazione oppure la dimostrazione di aver preso un appuntamento presso il proprio pediatra o i servizi ambulatoriali della nostra azienda un appuntamento appunto per effettuare le vaccinazioni mancanti. La regione toscana ha dato a questi genitori la possibilità anche di ritenere valido l'appuntamento per un colloquio informativo in merito alle vaccinazioni non ancora effettuate. Ecco, quanti sono gli inadempienti ad oggi? Gli inadempienti in provincia di Arezzo sinceramente rappresentano un numero piuttosto limitato. Per quello che riguarda le scuole elementari non si può parlare di esclusione. Per la scuola dell'obbligo primaria, media e superiore fino ai 16 anni l'accesso sarà comunque garantito. Le famiglie dovranno rispondere della propria inadempienza allo Stato e non alla scuola. Il decreto prevede infatti una sanzione amministrativa che va dai 100 ai 500 euro. Per le scuole dell'infanzia e esili nido il bambino invece non potrà più frequentare ma rimarrà iscritto.